Ecco che questa sera sono qui presente perché un incontro di approfondimento su questa tematica lo sto chiedendo al nostro sindaco da due anni e il nostro sindaco due anni fa mi rispose che si poteva fare soltanto se fossero state presenti le due parti con idee divergenti. Vedo che questa sera al tavolo dei redattori non è potuto essere presente chi sostiene delle idee contrarie per avere veramente un'informazione corretta perché l'informazione corretta si ha quando si parla in due. Evidentemente io non posso fare una relazione perché a me spetta soltanto il tempo di fare una domanda ma non ne farò domande perché stiamo parlando di due progetti diversi. Abbiamo visto che nelle relazioni di due ingegneri non viene sollevato da nessuna problematica anzi vi facciamo dei lavori straordinari, vi allardiamo le strade, miglioriamo la viabilità, daremo scopo a tutte queste merci che premono sul porto di Genova. Chi volesse documentarsi perché poi spesso rimaniamo allettati, abbagliati dal discorso occupazionale probabilmente anche questo è un punto rilevante però vi assicuro che preferisco far la fame che essere ricattato dal punto di vista occupazionale. Non faccio domande. Non faccio domande anche perché stanno parlando di due progetti diversi e siccome sono certo della correttezza o onestà del mio sindaco sono quasi certo che questa non sia una sua scelta. Questa sera non può parlare ad esempio chi noi avremmo invitato con competenze prettamente tecniche e non soltanto sensibilità ambientale quale può essere la mia come cittadino della Vallerme ma volevamo mettere sul tavolo dei dati tecnici che i signori relatori ovviamente non hanno minimamente portato perché se dovessimo parlare di diminuzione dell'impatto ambientale per il trasporto su gomma che andrebbe a diminuire sappiamo benissimo che non è così. Se dovessimo parlare di economicità dell'opera sappiamo che non è così persino Mauro Moretti lo ha detto e ora la domanda, ripeto per l'ennesima volta, non la faccio ma vorrei stimolare tutti coloro che sono qui seduti ad approfondire l'argomento e a chiedere di continuare di discutere ma non con le slide che ci fanno vedere il percorso e non ci dicono che cosa succede veramente qui continuiamo a discutere di questa roba, di questi argomenti però con una tecnica diversa un confronto serio in cui ci sia uno che sostiene una parte e uno che sostiene l'altra perché queste relazioni qui non apportano nulla ai cittadini che vogliono sapere. Grazie. Grazie.